Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amico. È stato un fine settimana importante per le comunità cattoliche di Savio e di Pinarella Tagliata. Nelle due parrocchie dell'Arcidiocesi di Ravenne Cervia si sono celebrate le messe che hanno sancito l'ingresso nelle comunità dei due nuovi parroci, Don Federico Emaldi e Don Mario di Massimo. Le due funzioni religiose sono state presedute dall'Arcivescovo Monsignor Lorenzo Ghizzoni. Don Federico Emaldi raccoglie il testimone a Savio di Don Silvio Ferrante trasferito a Lid Adriano. Al posto di Don Emaldi, a Pinarella, invece, è arrivato Don Mario di Massimo. Si tratta di un ritorno a Pinarella dove, alla fine degli anni Ottanta, Don di Massimo è stato seminarista e diacono. Ti consegno le chiavi della Chiesa dove si raduna la comunità parrocchiale per le celebrazioni della Domenica e dell'Anno Liturgico. Te li consegno con l'acqua il benedizionale e la liturgia delle ore. La parola, conosciuta nella catechesi, pregata nella liturgia delle ore, proclamata e ascoltata nell'Assemblea, da te spezzata come pane, Grazie. Grazie. Grazie.